Come vedi Palazzo Lascaris? È il concorso di fotografia su smartphone lanciato dal Consiglio regionale. Partecipare è semplice, basta scattare una foto della sede del Consiglio con Instagram, il network del photo sharing, e pubblicarla utilizzando l'hashtag cancelletto Insta CRP. Gli aspiranti fotografi potranno ritirare subito un gadget in regalo all'URP in Diarsenale 14. A fine anno un gruppo di esperti sceglierà le foto migliori, che verranno premiate a Palazzo Lascaris. Grazie.